Non saresti dovuto tornare Grazie per il consiglio Fai lo spiritoso? Ehi gente, cerca di fare lo spiritoso Allora, fai ancora lo spiritoso Non puoi farmi male Lo sai questo, vero? Posso fare quel che mi pare Nessuno ci vede Ci siamo solo tu e tutti noi Non hai capito cosa sta succedendo Vero? Non credo che tu abbia capito bene, commissario Vedi, sei legato ad una sedia E io e i miei amici faremo a turno per pestarti a sangue Spezzeremo ogni singolo osso che hai Quelli come te non mi spaventano Forse no De certo spaventano tua figlia Non osare nominarla Altrimenti che cosa fai? Allora, attacca Non ti paura ragazzi Pensate di poterlo battere? Non è così che entra Forza, mortati Tu chi sei? Non ne hai la più pallida idea Vero, Bruce? Jason Ma sei morto? Adesso non esageriamo Adesso non esageriamo, Batman Potrei averti detto una piccolissima bugia Ma su, guardalo bene Sei stato bravo Siamo stati bravi Dovresti esserne fiero Che succede? Sei senza parole? Mi aspettavo di più Mi deludi Joker mi ha inviato il filmato L'ho visto ucciderti Non osare mentirmi! Quanto hai aspettato prima di rimpiazzarmi? Un mese? Una settimana? Mi fidavo di te! E tu mi hai lasciato morire! Non è andata così! Me l'hai sempre detto, Bruce Concentrati su ciò che vuoi ottenere E succederà Vuoi sapere cosa voglio ora? Voglio vederti morto Non puoi sfuggirmi! Ti darò la caccia! Jason è in una posizione di vantaggio Devo avvicinarmi a prenderlo di sorpresa Sai almeno cosa mi ha fatto Joker? I suoi giochetti! Jason, io posso aiutarti! Nessuno può aiutarmi! Non sei l'unico ad avere degli alleati! Ho un segnale! Trazemi sorveglianza dappertutto! Ora circolo in... Brutta idea Jason mi vedrebbe Fagliela pagare, Batman Ok È da questa parte Volta l'anata! Joker ti è entrato nella testa So com'è! Non fingere di capire! Dannazione! Il cavaliere è di nuovo irraggiungibile! Supporto aereo perso! Così non paga! Rilevo il segnale! Ci sono tracce dappertutto! Ora cerco di agganciarlo! Dannazione! Segnale perso! Potrebbe essere ovunque! Dove diavolo è andato? Usa il fumo! Non ci serve il cavaliere per catturare! C'è qualcosa laggiù! Non è niente! Usa il rottino! Seguiamolo! Perfoglio perso! Guardate su! Vediamo come sta il ferito! Dov'è finito? Sono nel centro di comando! Presto! Mi copro le spalle! Controllate la cassa di armi! Ci sono! Oddio! Non cadere nei trucchi di base! Il cavaliere di Arkham non c'è più! Ora... Morirai lì! Non lo raccomando! Tagli nel mare! Basta! Ho imparato a sopportare il dolore! Basta! Ho imparato dal migliore! Non puoi colpire! Alla cieca! Corazza a deviazione ottica! I sensori non funzioneranno! Usa gli occhi! Basta! Se ti ricordi come fa! Stanno cercando me! Non eseguiranno più gli ordini del cavaliere di Arkham! Jason mi vedrà arrivare! Devo andare direttamente sotto il suo punto di vantaggio per eliminarlo! E avvicinare! E avvicinare! Granata! Vediamo come sta il tizio picchiato la parte! Fermati, Robin! Non chiamarmi così! Non sono più lui! Batman ha eliminato il cavaliere! Supporto aereo disattivato! Tutti in guardia! Oddio no! Di qua ho trovato qualcuno! È ferito! Musizione difensiva vicino alla sala giochi di Drake! Oh! Oh! non mi fai paura per me non sei una leggenda jason è in una posizione di vantaggio devo avvicinarmi e prenderlo di sorpresa potevi ucciderlo tante volte è colpa tua se ciò che ne è arrivato a me tu sei robin jason qualunque cosa ti abbia fatto basta piattala di parlarmi tu mi hai fatto questo mi dispiace mi hai lasciato marcire in un'ala abbandonata di arkham per più di un anno con lui non è tardi possiamo rimediare insieme alfred ho trovato jason chiedo scusa sir temo di aver capito male mi è sembrato di sentirle dire che ha trovato il signorino todd hai sentito bene uccello sta bene no no per niente immagino sia la fine del cavaliere di arkham sai il nome se l'era scelto lui povero quale luogo meglio di un manicomio per far impazzire un uomo dobbiamo salire sul tetto lo spaventapasseri è la che è successo ho seguito crane mi ha preso jim mi dispiace per barbara no finiamo questa faccenda dovevo fermarlo jim attento adesso ti prego io a non a Tutto ok, Jim? Sono stato peggio. Jim, volevo solo dirti. Lavorare con Barbara è stato un onore. Non devi. Anche sapendo cosa faceva, non l'avresti potuta fermare. Testarda, come suo padre. Coraggiosa. Nel mio mestiere si vedono cose orribili, dolore, sofferenza. Ma non dimenticherò mai quella deposizione di un bambino di otto anni che aveva appena visto i genitori crivellati di colpi. Sei stato buono, Jim. Ah, pensavo che non avrei mai avuto l'occasione di dirtelo, di chiederti scusa. Non devi. Siamo uguali, Bruce. Faremmo di tutto per la famiglia. Forza. In ginocchio, Crane. Ora. Così ce l'hai fatta. Lo devo ammettere. Avevo qualche piccolo dubbio sul tuo conto. Non lo chiederò ancora. E io non sto parlando con te. È il momento. Di cosa? Jim. Mi spiace. Non avevo scelta. Dammi mia figlia. Papà! Barbara. Stai bene? Sei ferita? Che stai facendo? Chiamate il trasporto. Ce ne andiamo. Sì, signore! È ora che la gente di Gotham veda il suo salvatore per quello che è realmente. Un uomo. Soltanto un uomo. Senza speranze. Tradito dagli amici. Mutilato dalla paura. Lascialo andare. Avete entrambi una parte da recitare. Avevamo un accordo. Una volta scoperta la più grande delle tue paure, controllarti è stato molto semplice. Posso immaginare che tu ti senta in colpa per lei. Hai bisogno di proteggerla. Ma dentro di te ti senti costretto a riconoscere che inevitabilmente un giorno fallirai. E questa paura ti rende mio. Pensa bene alla tua prossima mossa, commissario. Ne va della sua vita. Credevi che questo avrebbe salvato tua figlia? Sai che succede quando un uomo rifiuta di farsi controllare dalle sue paure? Deve affrontarle. Deve affrontarle. No. Prendi me. Ti prego, non è lei che vuoi. Prendi me. Non mi fai paura. È giusto avere paura. Non mi fai paura. Dove lo stanno portando? Dove lo stanno portando? Distrutto. Distrutto. Cosa? Niente paura. Lucius ha una riserva. Sono la testa potenziata al completo, comprese le milioni e al generatore armamenti. colpito. Colpito. Si sta colpendo di brutto. Batman ha liquidato un Diamondback. Twin Rattler preso. Drone offline. Twin Rattler abbattuto. Mi colpiscono. Batman ha annientato l'unità di droni a Otisburg. Lo spaventa Passer e lo ucciderà, vero? Non finché può usarlo per arrivare a me. Oh, quanta cavalleria. Ricordi come hai portato anche me in quel modo? Io no, perché ero morto. Ti porterò al distretto. Troveremo tuo padre. Barbara. Crane mi ha manipolato. Ti ho visto morire. Era il gas, Bruce. Non devi preoccuparti per noi. Io sentiti responsabile. Combattiamo al tuo fianco, non per te, ok? È bello riaverti accanto. Cache, ho trovato Barbara. Lo sto portando alla centrale. È vita. Grazie al cielo. E Gordon? Crane l'aveva catturato. Stai scherzando? Lo prenderei, Cache. Via di qui! Via, via! Dov'è, Tim? Sta bene? È agli studi cinematografici. Sta bene. Barbara, che sollievo vederti! Ciao, Aaron. Quanto tempo. Barbara ci darà una mano. Come vuoi tu. Lavora per te ora? Ma che sto dicendo? Lo facciamo tutti. Ok, vediamo. Prima ci connettiamo ai sistemi della torre dell'orologio. Potrebbero aggiornarli questi computer. Ok, ci siamo. Diagolo. Gli uomini di Crane sono già lì. Vogliono distruggere il locale server. Copia i dati dal mainframe. Non posso. La milizia ci blocca l'accesso. Ho perso la connessione. Quei dati sono indispensabili per salvare papà. Me ne occupo io. Non puoi andare. Ti stanno aspettando. È quello che spero. Dopo anni, la piccola Barbara Gordon mi intenerisce ancora, anche se ha fatto passi da gigante. Aspetta, metaforicamente parlando, chiaro?